Buonasera e benvenuti al nostro Tg, lo avete sentito dai titoli. A 92 anni è morto l'ex sindaco di Arezzo Luigi Luccherini, esponente di spicco della vita politica e dell'universo professionale della città e non solo. Lo ricordiamo in questo servizio. Lutto in città. A 92 anni è morto l'ex sindaco di Arezzo Luigi Luccherini. Luccherini, esponente di spicco della vita politica e civile aretina e dell'universo professionale della città e non solo, è stato il primo sindaco non di sinistra eletto a Palazzo Cavallo nel dopoguerra. Era il 1999. Di orientamento liberale che rivendicava sempre con orgoglio, Luccherini entrò in politica attiva tra le fila di Forza Italia. Fino a quel momento aveva ricoperti incarichi di rilievo in ambito professionale, ma senza una presenza diretta in ambito politico. Era stato presidente del sindacato nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani dall'86 al 95, componente di commissioni tecniche insediate all'interno della Confederazione Europea degli Ingegneri Consulenti e della Commissione Euroaraba per i Rapporti Interprofessionali. Le elezioni che lo portarono alla guida del Comune di Arezzo furono quelle del giugno 99, quando riuscì a prevalere sul candidato del centro-sinistra Paolo Nepi. Dal tratto distinto, con una capacità dialettica notevole, Luccherini seppe farsi apprezzare per il suo operato e per il modo con il quale si relazionava con i suoi interlocutori. Il suo mandato amministrativo dal 99 al 2004 si caratterizzò per un'ampia serie di interventi, soprattutto nel campo delle opere pubbliche, con un'ampia serie di attività che portò avanti, come amava ripetere, seguendo un progetto di città. L'urbanistica fu il settore nel quale Arezzo conobbe un impulso notevole, in questo senso Luccherini fu affiancato dall'attuale sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, assessore nella sua giunta. Ma importante fu il suo impegno nella promozione della città anche in ambito internazionale, con una serie di iniziative nelle quali il nome di Arezzo fu portato in giro per il mondo. Luccherini si ripresentò anche nelle elezioni amministrative seguenti, quelle del giugno 2004, dove prevalse sul candidato del centro-sinistra Monica Bettoni. Fu un mandato che tuttavia si interruppe a causa delle indagini della magistratura, indagini che lo accusarono di abuso di ufficio continuato. Si trattò della maxi-inchiesta denominata Variantopoli, procedimento per il quale venne accusato e poi condannato nel 2008, insieme con altre dieci persone. In occasione della tornata amministrativa del 2011 si ricandidò di nuovo al sindaco di Arezzo con una lista civica, progetto per Luccherini. L'ingegnere, come molti lo chiamavano, ha seguito con interesse da osservatore la vita cittadina fino all'ultimo. La figlia Francesca è attuale assessora all'urbanistica del comune. Con la scomparsa di Luigi Luccherini se ne va un uomo e un professionista che ha avuto un ruolo importante nella vita della città. Lo testimoniano in molti messaggi di cordoglio da parte dei rappresentanti del mondo cittadino in tutti i suoi aspetti. Molte persone si sono radunate di fronte alla misericordia all'arrivo del feretro dell'ex sindaco Luigi Luccherini. Domani la salma sarà esposta in consiglio comunale a partire dalle 9. I funerali alle 15 in Duomo. Misericordia di Arezzo è qui che è stato portato il sindaco Luigi Luccherini, poco dopo essere stato composto, dopo il suo decesso, è avvenuto la notte scorsa all'ospedale di Arezzo. Sono arrivati immediatamente tutti gli amici più cari, gli ex assessori, quelli che non erano appunto partiti per le ferie. Del resto è un periodo anche di vacanze, una morte inaspettata per quanto si sapesse appunto che il sindaco non stava molto bene, era caduto in casa, purtroppo però si sono sopravvenute una complicanza dopo l'altra e per Luccherini non c'è stato più niente da fare. Fino a 10 giorni fa stava benissimo, poi ho avuto tutta una serie di cose una dietro l'altra e ovviamente l'età non l'ha aiutato e stanotte e non ce l'ha più fatta. Tuo papà era felice che tu fossi entrata in politica proseguendo un po' la sua di carriera? Sì, l'ha vissuta, io credo che ha avuto quasi più piacere lui di me perché io ero frastornata e lui invece era felicissimo che io avesse avuto questo incarico così importante. Un momento doloroso anche perché ho mantenuto sempre i contatti con lui e ci eravamo visti pochi giorni fa. Tra l'altro ultimamente ho avuto il piacere di accompagnarlo più o meno una volta al mese a Firenze perché ancora Luccherini faceva parte del consiglio dell'ente cassa di risparmio e a Firenze se lo tenevano stretto come un gioiello. Io vedo nei messaggi che ricevo da tutte le parti ancora dopo tanti anni la considerazione che hanno avuto tanti aretini per il suo operato e questo credo che sia il migliore pitaffio. Aveva terminato di scrivere la sua autobiografia e aveva scritto che sarebbe venuto meno al termine del libro, è stato di parola. Dopo il saluto in sala del consiglio comunale il peretro sarà portato in Duomo dove alle 15 si celebreranno i funerali ufficiati da Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo e da Don Alvaro Bardelli. Ed ecco il saluto degli amici e dei collaboratori di Luigi Luccherini. Grazie a Sestini, lei è entrata in Parlamento poco dopo che Luigi Luccherini aveva vinto le elezioni qui a Arezzo. Sì è vero, fu un ingresso quasi in simultanea, erano passate un paio di settimane, sono passati più di 20 anni. Il ricordo di quei giorni è il ricordo di una persona straordinaria che ha insegnato agli aretini ad amare la loro città, a capire che questa città aveva straordinarie potenzialità e ha insegnato che si poteva lavorare, si poteva produrre ma si poteva anche valorizzare le bellezze che questa città aveva. Penso che gli avrebbe fatto piacere il testamento per la città di Arezzo di un grande sindaco. Con l'aiuto di tutti si può fare grande una città, Arezzo merita l'impegno di ciascuno di noi. Mi ricordo a del sindaco quando lei lavorava a stretto contatto con lui? Un grande, un grande, non si risparmiava, sempre e sempre per e solo per la sua città. Pino a ieri le parlava della sua autobiografia? Ieri mattina ho incontrato Luigi e ho parlato a lungo con lui, insieme con Maria e da sua moglie, sul suo libro. Il suo libro era l'ultima creatura e ciò che lui ha lasciato. Si preoccupava della correzione delle bozze, si preoccupava della lunghezza delle pagine, mi ha chiesto quando si poteva presentarlo e eravamo rimasti d'accordo tra il 15 e il di settembre, dove al centro affari, ma è troppo grande, però c'è lo spazio giusto per il parcheggio, era molto lucido e mi ha chiesto quando posso recuperare al pieno. Voleva presentare questo libro e questo libro sarà un grande evento per la città di Arezzo. Vice sindaco, un ricordo di Luigi Luccherini. È un momento molto emozionante, eravamo, siamo tutti legati al sindaco Luccherini, ha rappresentato per noi l'inizio di una lunga storia di politica, di amministrazione e di amicizia personale, quindi per noi è un momento personalmente molto difficile. Centinaia i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e alle redazioni per la scomparsa di Luigi Luccherini, dagli amici e colleghi della sua giunta agli avversari. La scomparsa di Luigi Luccherini ha colpito l'intera città e i messaggi di condoglianze sono stati trasversali e sono arrivati a centinaia, dal presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che ne ha ricordato l'impegno e la passione nel suo ruolo di sindaco, al coordinamento provinciale di Forza Italia, che ne ha sottolineato la svolta positiva ed importante data alla città di Arezzo, al PD, alla Lega. Rossella Angiolini, per sette anni assessore al sociale nella sua giunta, ricorda l'input di Luccherini a garantire molte risorse di bilancio che permisero di fornire servizi a famiglie, anziani, disabili bisognosi, prima i più deboli e i più bisognosi, poi gli altri le dicevano. Giuseppe Fanfani, che fu sindaco, dopo di lui ha scritto Arezzo perde un altro rappresentante di quella generazione che contribuì per molti anni con le sue opere alla sua crescita. Il Gigi, scrive Gianfrancesco Gamurrini, anche lui in giunta, era uno di noi, una persona che stava bene con tutti e ti alletava con racconti e tanta esperienza. Al cuore spezzato Francesco Macri, per il quale Luccherini ha avuto una visione di Arezzo nel futuro, costituendo uno spartiacque nella storia di Arezzo. Un rispettoso saluto anche da Monica Bettoni, competitor diretta e sconfitta da un Luccherini bis inarrestabile. Per Gianni Cantaloni, non muore solo un grande sindaco, ma una persona con la quale ho instaurato un rapporto di collaborazione e simpatia affettiva. Gli devo tutto, per me è una grande perdita, ci ha detto tra le lacrime. Con Gigi se ne va un pezzo importante della storia di Arezzo. Anche Mauro Valenti, patron di Arezzo Wave, ha voluto esprimere il suo cordoglio. Fu Luccherini infatti a portare Arezzo nella fondazione Arezzo Wave. E ancora il sindaco Ghinelli, sono stato suo assessore che lo ha accompagnato per tutta la sua esperienza amministrativa dal 1999 al 2006. Lascia un grande vuoto e per me un grande dolore. Anche un grande avversario come Alfio Nicotra, che durante i sette anni da sindaco di Luccherini gli fece fiera opposizione, ne ricorda la forza politica, capace di imporsi in modo trasversale, unendo le varie anime del centrodestra. Dei tanti ricordi, il momento più bello fu quando invitò il capigruppo a ricevere nel suo studio Alberto Sordi. Un momento bellissimo, lontano dalla lotta politica, immersi nella nostra storia. Ecco, lo ricordiamo, la salma di Luigi Luccherini sarà accolta nella sala del Consiglio Comunale domani mattina, dalle 9.30 fino alle 14.00. Il palazzo comunale sarà aperto per chiunque vorrà portare il proprio saluto al sindaco scomparso. Cambiamo argomento. Si susseguono le voci sulla nomina del nuovo vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, la cui nomina è ormai vicinissima. Fonti romane accreditano Don Gabriele Bandini, parroco di Rignano sull'Arno e titolare del seminario Vescovile. Bandini, che in queste ore sta compiendo il cammino di Santiago di Compostela, è stato da noi raggiunto per telefono e non ha confermato queste voci. Resta da attendere quindi la notifica ufficiale del Vaticano, ma i rumor indicano il sacerdote valdarnese come possibile successore di Riccardo Fontana. La notizia si è diffusa questa mattina ed è stata ripresa anche da alcuni organi di informazione. La comunicazione dunque è imminente e si sapeva che dopo i festeggiamenti di San Donato, questo passaggio doveva essere portato a compimento. Per Bandini sarebbe una prima nomina, peraltro di notevole responsabilità. La cronaca, cinquantenne spacciatore arrestato dai carabinieri, il fatto è accaduto in Valdarno, le indagini sono in corso per identificare altre eventuali persone coinvolte. Raffidato ai servizi sociali e già condannato per vari reati, i carabinieri di Cavriglia lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un pregiudicato valdarnese di 50 anni. Il controllo ha avuto luogo in tarda serata e il cinquantenne, che fino a quel momento non aveva dato adito a sospetti, aveva l'obbligo di permanere all'interno della sua abitazione a Cavriglia durante le ore notturne. Per questo motivo veniva regolarmente sottoposto a controllo. Nel corso dell'ultimo controllo, però, i carabinieri hanno percepito un atteggiamento strano, come se nascondesse qualcosa. Atteggiamento resa ancora più evidente di fronte a un odore di sostanze stupefacenti proveniente da una stanza. È stato a quel punto che i militari sono intervenuti, rimbenendo un sacchetto di cellofan, al cui interno erano racchiusi otto pezzi rettangolari di hashish, per un peso complessivo di 70 grammi, incartati uno per uno. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso per identificare eventuali acquirienti e fornitori dell'indagato. Rimaniamo in Valdarno. Sono iniziati ieri, 8 agosto, e si protrarranno fino al 26, i lavori alla Galleria Ferroviaria San Pellegrino, siamo a Firenze. Registrati disagi con ritardi e cancellazioni dei treni usati dai pendolari. Sono partiti i lavori nella Galleria San Pellegrino e nella tratta ferroviaria tra le stazioni di Firenze Statuto e Campo di Marte, programmati tra il 7 e il 26 di agosto. Lavori necessari a mantenere gli standard di sicurezza e a migliorare le prestazioni dell'infrastruttura ferroviaria, ma che stanno portando inevitabilmente ad una serie di ripercussioni su vari percorsi tra cancellazioni e riprogrammazioni, soprattutto per la Faentina e il Valdarno. In particolare, nella giornata di ieri, problemi maggiori si sono avuti sulla Faentina, qualche difficoltà anche sulla tratta valdarnese. Lunedì 8 agosto si sono registrati ritardi e cancellazioni, problemi nel pomeriggio a rientro, ma è solo l'inizio, commenta dal canto suo il portavoce del Comitato Pendolari del Valdarno Maurizio Darre, ribadendo che in luglio era stata annunciata per inizio agosto una cabina di regia fra regioni e ferrovie, ma fino ad ora non se ne è avuta notizia, come se non si fosse nemmeno svolta. Quanto accaduto nella giornata del lunedì 8 agosto è indegno di un paese che si definisce civile e dovrebbe portare il presidente Gianni e l'assessore Baccelli a decisioni drastiche e clamorose a tutela dei pendolari, scrive dal canto suo Gian Paolo Giannelli, esponente di Fratelli d'Italia della provincia di Firenze. La politica del trasporto regionale si dimostra totalmente fallimentare. Andiamo adesso a Marciano della Chiana. Grazie alla partecipazione a Bandi, il Comune di Marciano ha ottenuto 173 mila euro da impiegare nel rinnovamento tecnologico e informatico della macchina comunale. Marciano della Chiana si rinnova e si digitalizza. 173 mila euro provenienti da fondi del PNRR sono arrivati al Comune della Valdichiana, grazie alla partecipazione a Bandi. L'annuncio è stato fatto dal vice sindaco con deleghe a bilancio, finanza, tributi, personale e società partecipate, Monica Cardini, che ha specificato come 77 mila euro siano già stati assegnati e i restanti 96 mila siano stati approvati e in via di erogazione con la finalizzazione dei progetti. Dell'importo totale, 63 mila euro sono stati utilizzati per acquistare nuovi software e hardware per rendere più efficienti il centralino, gli uffici e la macchina comunale in generale. Uno dei nostri obiettivi prioritari, sottolinea la Cardini, è il rinnovamento tecnologico ed informatico per erogare nuovi servizi ai cittadini e per agevolare il lavoro dei dipendenti comunali che con questa digitalizzazione saranno anche in grado di lavorare in caso di necessità i smart working. Si tratta di nuovi strumenti informatici per avere servizi più efficienti e di conseguenza anche un migliore rapporto con i cittadini. Tra l'altro a breve in comune ci sarà anche la possibilità di usufruire di nuovi servizi come dell'attivazione dello speed, un ulteriore step che permetterà a Marciano di allinearsi con le altre amministrazioni. La cronaca ancora dalla Valdichiana. Minaccia la compagna e incendia una struttura in legno nel cortile della sua abitazione. Poi ubriaco al volante a un incidente stradale, si tratta di un uomo di 50 anni, di Foiano, arrestato dai carabinieri di Monte San Savino. Ad allertare i carabinieri è stata proprio la donna che aveva ricevuto dal compagno messaggi di minacce, i quali tra l'altro preannunciavano un incendio nella sua abitazione. I militari sono giunti sul posto dove stava andando a fuoco una struttura in legno sul retro dell'abitazione. Il cinquantenne alla vista degli uomini in divisa è scappato con il suo automezzo con il quale poco dopo è finito fuori strada. I carabinieri hanno sottoposto l'uomo quindi ad alcol test. L'accertamento effettuato ha dato esito positivo. Il cinquantenne è stato arrestato e condotto poi nel carcere di Arezzo. Mercoledì è prevista l'udienza di convalida dell'arresto. Da Castiglion Fiorentino adesso quattro band, 20 ballerini, 10 DJ e oltre 70 espositori. A Castiglion Fiorentino è tutto pronto per il ritorno dello Vintage Festival. Castiglion Fiorentino è pronta a trasformarsi nel borgo più americano della provincia di Arezzo. Lo stile degli anni 50 e 60 avvolgerà la città dal 12 al 15 agosto con il ritorno del Vintage Festival. L'iniziativa si svolgerà da Piazza del Comune a Corso Italia fino ad uscire fino a Porta Fiorentina a Viale Marconi e gran parte del market presso il Parco Presentini dove abbiamo oltre 65 espositori. Il festival partirà alle 17 con musica e intrattenimenti fino alle 24. Un sano divertimento per tutti in cui cerchiamo di unire il food al market, alla musica e al ballo. Quest'anno sono presenti 30 artisti tra i più famosi e tra i più conosciuti nel parolamma vintage italiano ed europea. Ci saranno 4 live ogni sera, 8 DJ che useranno esclusivamente vinili selezionati 45 giri e altri 20-30 ballerini che cureranno sia la parte di spettacolo durante le serate, che è il workshop di Balboa, Lindy Hop e Boogie che si svolgeranno durante il pomeriggio. Tra le novità l'allestimento nella chiesa degli scolopi di una sala giochi rigorosamente vintage. Il biliardino, il flipper, poi avremo il jukebox e forse anche altri videogiochi e poi ci sarà anche un concorso a premio per chi farà il punteggio maggiore con il flipper. Questa è la novità che abbiamo comunque deciso noi di fare per dare ancora più bellezza a questa iniziativa. Un'iniziativa che promuove il territorio e sostiene il commercio locale e che per questo ha ricevuto anche il plauso da parte di Confcommercio Valdichiana. Ecco, ricordiamo che il Festival di Castiglion Fiorentino sarà dedicato alla memoria e al ricordo della grande Olivia Newton-John, la grande attrice scomparsa a 73 anni. Andiamo adesso in Valtiberina al Via Terre in Festival, manifestazione ideata da laboratori permanenti che porta nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo e Sestino spettacoli culturali e di contenuti. La manifestazione si svolgerà dal 13 agosto al 24 settembre. Una felice riconferma quella di Terra in Festival che torna ad animare le sere dell'estate Valtiberina. Così l'assessore Francesca Mercati ha aperto la conferenza di presentazione della manifestazione di laboratori permanenti che si rinnova con un calendario ricco di appuntamenti che avranno il proprio fulcro nella città di Sansepolcro ma che saranno itineranti un po' in tutti i comuni della Terra Valtiberina. Sì, è stato un onore oltre che un piacere ospitare la conferenza stampa di presentazione del Festival di Caterina Casini qui a Sansepolcro proprio perché oltre ad essere un festival di rilievo di qualità si tratta di un festival itinerante che coinvolge 5 dei 7 comuni della nostra Valtiberina toscana e che quindi ci consente anche in ambito culturale di perseguire quello scopo che ormai ci siamo prefissi, di fare rete, di collaborare e quindi di ragionare in termini di territorio e di comunità unica come Valtiberina e non a livello dei nostri singoli comuni. L'Anfiteato del Campaccio e l'Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro vivranno momenti intensi a partire dal 13 agosto con La Pagina più bella del mondo, un appuntamento tanto caro alla città di Venuto ormai imprescindibile. Anche la cultura serve da collante per creare legami che possano essere rinnovati e rafforzati nel tempo. Altro evento culturale in corso di svolgimento è la rassegna di autori a Montemignaio. Prosegue a Montemignaio la rassegna di autori promossa dal Centro Culturale e ideata dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini. Fino al 19 agosto prosegue l'iniziativa Un Autore a Montemignaio. Sì, questa è un'iniziativa che ha preso il Centro Culturale di nuova nomina tra l'altro che sta presentando cinque giornate fino al 19 agosto, come giustamente detto. La prima l'abbiamo fatta il 29 luglio, presentata e grazie anche all'apporto di Domenico Mugnaini e il direttore di Toscana Oggi, c'è questa presentazione di libri. Appunto il 29 luglio c'è stato Riccardo Bigi che ne è l'autore della biografia di Giorgio Lapira. Ti dirò che nonostante conoscessi abbastanza bene il personaggio, la spiegazione della sua biografia mi ha davvero fatto scoprire nove cose. Ecco, queste sono delle iniziative molto belle, fanno parte del Centro Culturale e mi auguro che le presenze siano tante quante la prima. Adesso un annuncio. Si informa che presso la nostra sede di Teletruria, a case nuove di Ceciliano 49 Arezzo, è depositato il codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. In questo codice sono specificate le norme e le condizioni economiche di offerta dei messaggi elettorali a pagamento e in particolare le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale possono essere prenotati le modalità di prenotazione e le tariffe per l'accesso a tali spazi. Il codice di autoregolamentazione è anche pubblicato sul sito dell'emittente www.teletruria.it Per contatti telefonici si invita a telefonare all'amministrazione di Teletruria al numero 0575 32 10 00. Questa sera, subito dopo il Tg delle 20 e 30, potrete assistere a 9 e 10. In questo numero si parla del concerto tenuto dal baritono Marco Cassi alla Fortezza di Arezzo. La serata proseguirà con incontri al Caffè della Versiliana, che ha per titolo Tra marmo e mare, Carrara e Livorno, città dell'arte e del gusto. Farà seguito cronache e commenti, settimanale di informazione sull'attività del Consiglio e della Giunta regionale toscana e alle 23 appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Tg. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie a tutti.